bentornati sul canale amo gli italiani oggi con le ultime notizie come uno dei vincitori di amici di maria de filippi che più ci è rimasto nel cuore ha trovato l'amore con lei ecco di chi stiamo parlando lo ricordiamo per aver partecipato e vinto nell'edizione del 2016 di amici di maria de filippi il giovane aveva conquistato tutti fin dalle prime prove arrivando in finale e vincendo nella categoria canto negli anni ha raggiunto numerosi successi e le sue canzone sono diventate delle vere e proprie fit esplosive eppure da qualche anno sembra essere scomparso dalla scena televisiva e dal panorama musicale italiano eppure in un'esclusiva di ucce il giovane cantante è ritornato alla ribalta e sembra che abbia anche trovato l'amore ecco di chi stiamo parlando ricky riccardo marcuzzo da amici di maria de filippi ad oggi stiamo parlando di riccardo marcuzzo in arte conosciuto con il nome di ricky il giovane cantante di talento si era fatto strada nel noto talent show e si era fatto apprezzare dai giudici e dai suoi fan tuttavia il successo è come una cresta a volte ti porta sull'onda altre volte ti trascina giù e riccardo ha dovuto affrontare entrambe le fasi nella sua carriera professionale e privata in alcune interviste ha infatti rivelato di come il successo post amici di maria de filippi lo abbia travolto e denutrito ma oggi è pronto a tornare al suo fianco compare una splendida ragazza già nota al pubblico televisivo infatti in un'esclusiva di upse e ricky è stato sorpreso con una ragazza il suo nome è stefani bellarte ed è una ex pupa de la pupa e il secchione la giovane sembra aver superato la relazione con il secchione alessio guidi negli scatti ricky sembra felice e rinato infatti sembra che la sua vita professionale e privata sia andando per il meglio da un lato una nuova fidanzata pronto a sostenerlo e dall'altro il lancio del suo nuovo singolo intitolato ferrari white in collaborazione con big fish un singolo che egli stesso annuncia come rottura rispetto ai suoi precedenti lavori e che rappresenta il risultato di un particolare percorso artistico e un cambiamento intrinseco grazie per aver guardato l'intero video metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti arrivederci ci vediamo al prossimo video